2 1 2 1 L'appdo Canta! ok 4 sull'iride il ciclo comincia nuovamente una pioggia di giustizia una pioggia di giustizia Ancora, sei ucciso e scicuto insieme Ancora, sei ucciso e scicuto Attento, Antrax è addietro, può arrivare Ok, non è arrivato Sì, è giusto Non lo so Non lo so Sarei ucciso e 12 Ma ho ucciso lui? Come? Ah, per quando vuole lascia le cose più piccole esplode Nei, per quando vuole lascia le cose più piccole esplode Attento, Antrax è una nuova Di loro, l'arrivo è un'arrivo Allora, scicuto Sì l'arrivo Allora, scicuto Il situations Il carico vecchio, ci muoviamo con l'ultimo. Una pioggia di giustizia! Il carico è sicuro, muoviamoci. Allora, ho bisogno di pure io. Ho quattro di viti. Troviamo per il palo dei più pesanti. Conяетizzio. Facciamo. ma ha scioltato gli cervelli con una freccia ma ha levato a 2.50 è rimasto anche qui cosa fa il globo dell'armonia? ok pulito andiamo una pioggia di giustizia il carico deve raggiungere la sua destinazione il carico sta per giungere a destinazione un minuto un minuto un'altra serie uccisione da 9 si devo dirlo in questa partita ho fatto il massacro ho 26 in azioni e 21 colpi grazie sei morti nooo l'ha fatta te l'azione migliore nooo ingiustizia guarda l'imuciso da lei l'imuciso da ecco nooo te quindi hai preso azione migliore grazie a me e non sono neanche comparso tra i migliori no senso non ha senso questa cosa eh vabbè mi fermo che devo andare